Ciao amici, bentornati sul canale di Jesus Playroom. Oggi un video per VeryNerd, quindi un video da geek. Spero che lo apprezzerete, se vi piacerà spero che metterete mi piace. Se non siete iscritti ovviamente che voi possiate iscrivervi. Tra un po' vedrete, oggi ci dedichiamo ai benchmark di quello che è il telefono del momento, il Realme GT. Ma prima di tutto è il momento della sigla. Eccoci, eccoci. Se avete resistito dopo aver saputo dell'argomento, sappiate che faremo un po' di benchmark test. Il protagonista sarà questo, il Realme GT, in versione 256, 12 GB di RAM. E lo paragoneremo, prima vedremo un po' quali sono i benchmark test. Lo paragoneremo al ROG Phone 3, come, diciamo, esponente principale. Vediamo se si sblocca. Ok, sblocchiamo anche questo. Dei telefoni con 865, snap 865, rispetto al nuovissimo snap 888. La prima cosa che vi farò vedere è un test che è molto importante, anche se viene poco considerato, perché i suoi risultati sono un po' particolari. E sono tacciati di essere poco credibili. Quindi, questa è al momento la... Non vi faccio vedere il test perché è lunghissimo, ma ci dedicheremo tra un po' a qualcos'altro. Quindi, snap 888 a 809.813 contro i 707.560. Andiamo a vedere il ranking. Vediamo se ce lo fa vedere. Bene, 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 bene. Al momento il Realme GT pare avere... Vedete, questo il mio probabilmente è sotto quelli che sono i punteggi precisi del Realme GT, che arriva fino a 812.000. Questo test effettivamente è un po'... Notiamo che in prima istanza, soprattutto, c'è il Nubia Red Magic 6, che è stato finora, diciamo, protagonista solo di un'anteprima, ma che conto di portare in un video completo quanto prima possibile. Quello che mi preme, però, una volta visto questo... Ok. Cancelliamo tutto. Liberiamo una memoria. Vorrei fare un test preciso su 3DMark, che è senza dubbio più affidabile di Antutu. Andiamo con uno, andiamo con l'altro. E vediamo come va. Godiamoci insieme lo spettacolo del rendering di questo test. Questo è Wild Life. Un test abbastanza... Abbastanza pesante. 36 frame a 26, possibile? No, vabbè, è troppo ballerino. Comunque, ci sono un 10 frame di differenza al secondo, circa. Vediamo come va. Hanno finito più o meno contemporaneamente. Andiamoci a vedere i punteggi. Come potete vedere abbiamo un 4.203 per il ROG Phone, contro un 5.769 di Realme GT. Perfetto. Torniamo indietro. E cerchiamo di capire anche quale sia la situazione generale. Compera. E allora, con i suoi 4.000... Prima è arrivato a 4.200, comunque 4.100 è al 73esimo posto. Mentre questo, al momento, dovrebbe essere considerato ancora non classificato, tra virgolette, come new model. Però, questo è un test a cui partecipano anche gli iPhone. E sembra uno stravincere. E questo, vediamo un po'. Il Red Magic 6 è sui 5.779. Insieme a Black Shark 4 e il Legion Phone Duel. Non vedo... 5.700 abbiamo detto 770. Al momento abbiamo 5.769. Direi che chi dice che questo telefono è un campione di prestazioni, al momento non dice male. Va bene. Per adesso è tutto. Questo è il primo di vari approfondimenti che volevo fare. Come benchmark direi che ci siamo. Un saluto a tutti, amici. Ciao.